La lunga fila davanti agli sportelli dell'economato del comune di Cosenza è iniziata di buon mattino per la distribuzione dei sussidi alle famiglie disagiate. Non più buoni cartacei, ma monete d'argento del peso di 9,5 grammi ciascuna, ribattezzate con il nome di Bruzzi. Ogni moneta ha un valore nominale di 20 euro e può essere spesa in uno degli esercizi commerciali convenzionati per l'acquisto di generi di prima necessità, farmaci o prestazioni sanitarie. Il sussidio è pari a 80 euro per cui a ognuno vengono consegnate quattro monete. L'idea è dell'assessore ai tributi Lino Di Nardo. Le monete, coniate in 5.000 pezzi in provincia di Vicenza dalla Orozen per la non secondaria spesa di 38.000 euro più IVA, regano l'effigie di Federico II di Svevia. I negozianti aderenti hanno l'obbligo di accettarle come corrispettivo di pagamento. Potranno convertirle in euro dal 1 luglio al 30 novembre 2019. L'investimento iniziale fa storcere il naso. La cifra poteva essere impiegata per allargare la platea dei beneficiari o aumentare l'entità del sussidio. Ma secondo Di Nardo, buona parte delle monete non sarà convertita, ma conservata come oggetto di valore, determinando addirittura un risparmio per le casse comunali. Questa spesa per il conio sicuramente non è una spesa che finisce qui, perché in ogni caso, nel momento in cui vi è il rientro delle cosiddette monete, le stesse potranno essere riutilizzate per il conio delle monete del prossimo anno. Vista in un'ottica temporale pluriannale, è un'iniziativa gratis.